I'm fucking crazy. Sono dannatamente folle. E Donald Trump stesso, parlando di Cina in un'intervista al Wall Street Journal, ad aver ammesso quella che nei fatti è la vera cifra stilistica della sua carriera politica. Ciò che gli ha permesso di vincere sorprendentemente un'elezione presidenziale nel 2016, di risorgere dalle ceneri di una sconfitta bruciante, dall'accusa di aver guidato un assalto alle istituzioni americane, di essere uscito vivo da una marea di capi di imputazione che gli potevano costare anni di carcere, e di aver rivinto otto anni dopo, quando il mondo ormai l'aveva dato per finito. Donald Trump is fucking crazy. Ma non solo per la sua capacità di sorprendere e rialzarsi, ma anche e soprattutto per la sua imprevedibilità, per la sua capacità di rimangiarsi promesse e minacce, di fare cose che sembrano impensabili per chiunque altro. In quest'ottica, provare anche solo a immaginare come sarà il suo nuovo mandato da presidente USA è un compito quanto meno arduo. Sia chi pensa che una nuova presidenza Trump possa essere la fine della democrazia in America, sia chi pensa che finirà per essere una presidenza tutto sommato normale, hanno buone possibilità di vedere avverate le loro profezie. Se però vogliamo provare a mettere in fila due o tre certezze, il quadro appare preoccupante soprattutto in tre direzioni. La prima è quella relativa al conflitto in Ucraina dove Donald Trump ha più volte espresso la volontà di arrivare al più presto a una tregua tra le parti e a un accordo di pace. È un progetto questo che ovviamente piace a Vladimir Putin perché potrebbe rendere permanente lo status quo e quindi il controllo russo su Donbass, Crimea e su quell'embo di costa che le congiunge. Una vittoria enorme per la Russia che potrebbe tranquillamente dire d'aver raggiunto l'obiettivo che si poneva con la sua operazione speciale iniziata nel febbraio 2022. A questo si aggiunge il carico di un disimpegno americano, anche questo più volte minacciato da Trump negli ultimi mesi, nel presidio del confine orientale del continente europeo. Non è un mistero che Trump vorrebbe che i paesi aderenti alla Nato spendessero di più in armamenti e difesa, richiamati scrocconi. Per noi, ma soprattutto per i paesi che confinano con la Russia o la Bielorussia, e in particolare le tre repubbliche baltiche, la Polonia e la Finlandia, vorrebbe dire fare i conti con la paura di nuovi attacchi della Russia. Che, ricordiamolo, in questi anni è diventata di fatto un paese che si regge economicamente sulla produzione di armi e che nel 2025 spenderà per la difesa il 6,2% del suo prodotto interno lordo. La seconda quasi certezza che abbiamo su una nuova presidenza Trump è che i diritti sessuali e riproduttivi delle donne e delle persone omosessuali non aumenteranno. Anzi, per quanto le parole del candidato repubblicano e del suo vice J.D. Vance siano state più caute in campagna elettorale, c'è un vasto consenso dell'elettorato americano a favore dell'interruzione di gravidanza. Trump è il presidente che con un colpo di coda ha permesso che il diritto all'aborto negli USA perdesse lo status di diritto costituzionale e che di certo non si metterà di traverso se gli stati a guida repubblicana decideranno di comprimere ulteriormente questo diritto. Bisognerà vedere a questo punto se quel che succederà negli USA non spingerà le destre a fare altrettanto da noi in Europa. La terza cosa su cui ci sentiamo di essere abbastanza sicuri è che Trump non abbia nessuna voglia di combattere il cambiamento climatico. Difficilmente nei prossimi quattro anni gli USA taglieranno le emissioni attraverso un più ampio ricorso alle energie rinnovabili e difficilmente chiederanno al mondo di rispettare gli accordi presi a livello intergovernativo in questi ultimi anni. Al contrario, gli Stati Uniti punteranno a una sempre maggiore indipendenza energetica grazie a nuove trivellazioni e a un ampio ricorso agli idrocarburi. Che tutto questo accada mentre in Spagna si contano i morti a centinaia per l'ennesimo evento climatico estremo di questi mesi in Europa suona in qualche modo doppiamente beffardo. E ci ricorda, se mai ce ne fossimo dimenticati, che quel che accade di là dall'Oceano Atlantico ci riguarda molto più di quanto crediamo. La campana sta suonando pure per noi, anche qua in Europa.